Musica Domenica 14 maggio, buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di Tele Molise. Allora iniziamo subito con il giornale del Molise, Nicola Passarelli inquadra dalla regia. Assemblea PD chiamata a scegliere se allearsi o no con Patricello. Campobasso Ipasvi celebra la giornata internazionale dell'infermiere, iniziativa in piazza Municipio. Sul furgone con mezzo chilo di eroina arrestato un trentenne di termoli e sempre a termoli sbrocca su anac e tunnel e tutto in regola, bassa strumentalizzazione politica. Isernia scoperta una serra per coltivare la marijuana, quarantenne neguai. E a Rio Nero Sannitico, internet lumaca o assente, protestano i clienti della Telecom. A termoli l'autorità anticorruzione si interessa al progetto sul tunnel. Quotidiani locali, primo piano molise, amministrative, al via, la campagna elettorale in 18 comuni molisani scaduti ieri a mezzogiorno. I termini per la presentazione delle liste ci riprovano molti sindaci uscenti. Il test più importante ha petacciato. In provincia di Isernia, l'11 giugno, si vota solo a Civitanova, Castelpizzuto e Sant'Elena. Regionali alle manno a Isernia, il movimento sovranista vuole le primarie del centro-destra. La cronaca, banditi sfondano la vetrina della BPR e fanno saltare il bancomat. Bottino da oltre 20 mila euro, poi tunnel sotto la lente dell'Anac, sbroccano i trasparenti. Pronta la querela per i comitati. Mezzo chilo di eroina nascosto nel furgone. Siamo a Termoli, pusher trentenne arrestato dai carabinieri. Intanto Isernia finge di essere innamorata per spillargli denaro spasimante truffato. Vediamo lo sport ciclismo. Giro d'Italia da Montenegro di Bisaccia scatta l'ascesa verso il temuto block house. La cittadina basso molisana ospita la partenza della tappa numero 9. Olimpia agnonese e ammatelica per inseguire un sogno. I Granata non sono ancora sazi, poi promozione. La Boisiel si batte la Vulcania in finale e conquista un posto nel prossimo torneo di eccellenza. Calcio a 5, Castelpagano e Fossaltese seguono la Robo Ragnone in C1 dopo la disputa dei play-off. Vasso Girardi e Isernia cercano l'accesso agli spareggi nazionali per la D. Andiamo al quotidiano del Molise. Comunali si schierano i candidati, presentate le liste nei 18 comuni del Molise chiamati al voto il prossimo 11 giugno. In provincia di Campobasso alle Urne in 15 centri, 3 in quella di Isernia, circa 500 gli aspiranti consiglieri e sindaci. Il tormentone impazzano le coalizioni civetta e nessuna di loro avrà mai gloria. Gli irriducibili a Guardia Alfiera, un indomito Remo Grande tenta la quarta scalata. La curiosità, padre e figlio avversari e c'è pure un Renzi che ci prova. La cronaca con l'auto sfondano la vetrata, poi fanno esplodere il Bancomat. Clamoroso colpo a Campobasso da 20 mila euro ai danni della filiare Biper di Via 4 Novembre, aperta la caccia ai banditi. Montenero di Bisaccia si veste di rosa per una tappa cruciale del giro. Termoli, tunnel, il sindaco sbrocca, è tutto in regola. E a Campobasso, polegi del Movimento Consumatori, i taxi, tornino al loro posto. Termoli se ne va a spasso con mezzo chilo di eroina nella porta a Bagagli ed è stato arrestato dai carabinieri. Intanto a Di Serna è una storia d'amore ricatti, né guai l'amante terribile. Andiamo allo sport agnionese, scocca l'ora dei play-off a Matelica per sognare. E Boyce Yelsey, un sabato da favola e promozione in eccellenza. La nuova gazzetta molisana, il degrado in cartellone all'ex Ariston, pericolante l'edificio che fu sede di cinema e teatro in attesa della sentenza di novembre. Non si poteva trovare una soluzione. Poi l'Oscar della nuova gazzetta va a Pasquale Guarraccino. Il Tapiro va a Vittorino Facciolla. Poi per l'editoriale l'ardire si pensa a un nuovo movimento comunale. Futuro Molise furto con scasso alla BP per Banca di Campobasso. Bottino 20 mila euro. La questura rinnova l'invito ai cittadini a collaborare. Termoli nascondeva nel portabagagli del furgone mezzo chilo di eroina, arrestato un trentenne pugliese. Agnone furto di legna. I carabinieri denunciano una persona. A Campobasso droga e prostituzione. Blitz della polizia in alcuni centri di accoglienza per immigrati. I quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera. Etruria. Renzi alza il tiro. De Bortoli ossessionato. Voleva la Rai. La replica. Ho detto no due volte. A fondo del leader PD. Anche sui controllori. Accertare le colpe. Visco. Falsità. Su Banchi Italia. Sull'aereo da Fatima. Sulla pedofilia ci sono stati grandi progressi. Ha detto il Papa. Međugorje e i dubbi del Papa. La Madonna non è un postino. Incursioni hacker decuplicate in un solo anno. Milano la più bersagliata. Questo era il Corriere della Sera. Vediamo l'apertura della Repubblica. Hacker. La pista russa. Danni per miliardi. Colpiti 99 paesi. Sui mercati vola il Bitcoin. Il G7. Ci difenderemo. Anac e tregua. E tregua più controlli su Cantone. Appalti. Cambiano le norme. Il magistrato dice. Non ho perso. Robinson e la giornata della bicicletta. Il secolo dei pedali. Il futuro delle città. Come su due ruote. Andiamo a vedere l'apertura della stampa. L'Unione Europea all'Italia. Colpa vostra se fallisce il piano migranti. Mancanza di coordinamento. In preparazione. Burocrazia. Documento dell'Europarlamento. Ecco perché la redistribuzione non sta funzionando. Lapponia. Il popolo del ghiaccio. Senza pace. Il dramma dei Sami. In passato sfuggiti alle persecuzioni. Oggi temono l'offensiva populista. Il turismo è l'unica risorsa. Dopo la stampa il fatto quotidiano. Dillo a Matteo che vuoi salvare Etruria. Ci tiene. Vincenzo Umbrella rivela le mosse del giglio magico. Renzi si incavola molto se sulle banche lo scavalchi. Pizzaiolo meccanico. Quei laureati a bottega a Roma. I professionisti protestano. Altri si riciclano. Questo era il fatto quotidiano. Vediamo il messaggero. Rifiuti di Roma. Indagine. Anac. Cantone in corso. Verifiche sull'Ama. Alcune municipalizzate sono un bubone. Raggi a zingaretti. Ok al disgelo. Oggi il ramazzadei del PD. Ma il comune ha giocato d'anticipo. L'intervista. Il Papa. Dubbi su Meggiugorie. ONG serve la verità. Francesco. Ascolterò Trump senza pregiudizi. Schettino in carcere. Ricomincio da mozzo. Quei morti mi pesano. Parla l'ex comandante Concordia. Ho scelto Re Bibbia. Così mia figlia non verrà riconosciuta durante le visite. Andiamo a vedere l'apertura di avvenire. Sotto il manto della madre. Il Papa canonizza i pastorelli Francesco e Giacinta sopplicando la pace per tutti i fratelli. Trump non lo giudico prima di ascoltarlo. Attacco in 99 paesi il G7 contro gli hacker. Bloccate pure Renault e banca centrale russa. La PIL può crescere ancora. Le notizie economiche. Il sole 24 ore. G7. Guerra agli hacker. In Italia danni a 9 miliardi. Banca Italia colpita un'impresa su tre. Salgono i riscatti. Professionisti in piazza per le tariffe. Il malessere parte dagli ordini locali. Corteo a Roma per rilanciare la protesta. Continuiamo con la stampa nazionale. Il tempo sui vitalizi. Svolta 5 stelle. Votiamo la proposta PD. Tra pochi giorni in aula il testo che riduce gli assegni agli ex onorevoli. Tagli per il 40%. Fra caro vediamo se i dem fanno sul serio. Biglietti al Colosseo. Stop al Superbando. Il Consiglio di Stato annulla la gara da 33 milioni di euro. Il dossier su 100 immigrati. 95 sono clandestini. Crolla il dogma buonista dei profughi in fuga dalla guerra. Questo era il tempo. Vediamo ora il mattino. Prodi basta grandi coalizioni. In Italia non c'è un Macron. Il PD può allearsi solo nell'area di centro-sinistra. L'ex premier Correnzi. Non c'è stato nessun gelo. Solo opinioni diverse. Sarri De Laurentiis. La folle elite sul contratto. Il tecnico sia al ruolo alla Ferguson. Ma voglio arricchirmi il presidente. Ne parliamo dopo due scudetti. Andiamo a vedere l'apertura del manifesto. Il titolo è Tax Will. Ovviamente un titolo ironico. Tante parole, poca sostanza. Dal G7 di Bari il ministro Padoan. incassa un documento comune per la web tax ai colossi digitali. Un passo avanti che però rischia di infrangersi nei paradisi fiscali delle multinazionali. Stati Uniti e Gran Bretagna in testa. E l'Ox redigerà un rapporto ma entro un anno. Macron sale all'Eliseo. Poi il governo. Questa notizia che viene dalla Francia. L'apertura di Libero sulla virtù del Boschi. Pugilato De Bortoli-Renzi. L'ex direttore del Corriere della Sera. Svela le trame dell'ex ministra sulla banca del padre. Il segretario PD la difende. Colpisce il giornalista sotto la cintola. La vicenda uscilla tra affare di Stato e bega personale. Vinca il peggiore. Tutto il governo processato per Etruria. Ma nessuno si scandalizza per i miliardi a Monte Paschi di Siena. L'uomo che assume soltanto italiani. L'armatore Vincenzo Norato. Patron di Mobi. Da Libero alla Verità. Babbo Boschi e Babbo Renzi. Operazione Insabbiamento. Il rottamatore del Rio. Provano a sbianchettare le manovre dell'ex ministra su banca Etruria. I giornali puntano a smontare l'inchiesta Consip. Vogliono il porto delle nebbie. La Torino del sindaco Appendino. Capitale dell'Islam italiano. Poi fermano per legge la fuga all'estero dei pensionati. Emendamento alla manovra. Italia in gara con gli altri paesi europei. Per attrarre gli over 65. A colpi di sgravi fiscali. Dalla Verità al secolo d'Italia. Pensioni minime a 1000 euro. Però questa è la proposta di Berlusconi. La gazzetta sportiva. Queste le notizie sportive. Tutti vogliono l'Inter. L'Ite, Sarri, De Laurentiis, Zhang ci pensa. Sidi Pepe può arrivare gratis dal Real. Campionato un weekend di verdetti pesanti. Rinasce Eurodè a Milan. L'Atalanta torna alle coppe dopo 26 anni. Grazie all'1-1 con Milan. Punto prezioso. Che difende il sesto posto. Montella dice. Resto. Juve al match scudetto. Olimpico alle 20.45. Bianconeri contro la Roma. Basta un pari per confermarsi. Campioni d'Italia per la sesta volta di fila. Record storico. Con la gazzetta sportiva concludiamo la nostra rassegna stampa. Appuntamento alle 14 con il telegiornale di Telemolise. Grazie per averci seguito. Buona domenica e auguri a tutte le mamme.